Qual è il miglior libro di crescita personale? Ogni anno mi fate la stessa domanda. Qual è il miglior libro per essere introdotti all'interno del campo della crescita personale? Come posso evitare di leggere, non so, tutti i libri sulla psicologia, sugli studi scientifici che stanno dietro questo ambito? Esiste un libro, un solo libro dal quale io possa iniziare? Ebbene, oggi voglio parlarti di un libro davvero interessante che ormai molto datato ma che la maggior parte della gente, soprattutto i miei colleghi, tende a sottovalutare. Ma mi raccomando, dato che probabilmente sai già che libro è dal titolo e dalla copertina, seguimi fino in fondo, soprattutto se pensi che questo libro non valga la pena. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, psicologo, psicoterapeuta, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se la psicologia e la crescita personale vi fanno battere il cuore, siete nel luogo più adatto. Se per caso mi seguite da diverso tempo sapete che ogni volta che una persona mi chiede di dargli un titolo di un semplice libro di crescita personale rispondo sempre nello stesso modo. In che ambito? Che cosa vuoi? Vuoi raggiungere i tuoi obiettivi? Migliorare la tua comunicazione? Essere maggiormente motivato? No, perché negli ultimi decenni la psicologia ha tirato fuori decine e decini di libri, soprattutto che hanno influenzato l'ambito della crescita personale. Se segui Psynel da diverso tempo sai che essenzialmente la crescita personale è la traduzione semplificata di alcuni studi in psicologia, ma non solo, anche di antiche filosofie. Infatti solitamente ho consiglio libri di psicologi, di miei autori, con specifiche teorie, facciamo un esempio Grinta, oppure il Mindset della Carol Dweck, eccetera eccetera, oppure consiglio libri di filosofia e in particolare di filosofia stoica. Tuttavia se io e te ci facciamo un giro in una qualsiasi libreria troveremo che ci sono scaffali pieni di libri di crescita personale all'interno dei quali, degli scaffali, non c'è neanche un libro di psicologia o di filosofia, ma ci sono questi libri che ormai sono divulgativi. Ebbene ne esiste uno addirittura di più di 30 anni fa che è famosissimo e che io ritengo essere un ottimo libro di crescita personale ancora oggi, ma che ha bisogno di una piccola rivisitatina in alcuni punti. Ovviamente sto parlando delle sette regole del successo di Stephen Covey, che è una cattiva traduzione di sette abitudini del successo. È già una cosa molto interessante, non sono regole che vanno seguite, ma sono abitudini che vanno implementate. Questa è una differenza fondamentale, non è che la mattina ti svegli e puoi diventare di colpo più responsabile. La responsabilità è qualcosa che richiede consapevolezza, richiede la capacità di accogliere l'errore, richiede l'abilità di rispondere agli eventi che ti circondano. E questa cosa non avviene dal mattino alla sera perché inizia a seguire una semplice regola, è invece una vera e propria abitudine. Quindi prendiamo, diciamo così, il termine originario di Stephen Covey, quindi un'abitudine. Partiamo dicendo che Stephen Covey, al contrario di moltissimi autori di crescita personale degli anni 80, non è un semplice venditore oppure un imprenditore che racconta la propria storia di successo, ma è un educatore che insegna da diversi anni all'interno di differenti contesti e poi diventerà anche un imprenditore di successo. Questa faccenda lo rende da un lato maggiormente autorevole all'interno dell'ambito dell'educazione e della formazione, ma dall'altro lato lo allontana un po' da quell'idea di guru che ti mostra, guarda che cosa ho fatto io, segui i miei passi e diventerai come me. No, Stephen Covey ha realmente distillato alcune regole che sono molto potenti e molto efficaci. E oggi voglio parlarti proprio delle sette regole molto velocemente, aggiornate un po' ai tempi nostri, perché alcune di queste regole all'interno del libro originale, che purtroppo non ho con me, perché è uno di quei libri che ho prestato anni fa ed è svanito nel nulla, sono regole, sono abitudini che possiamo implementare o comunque iniziare leggermente a implementare nella nostra vita. La prima regola di Stephen Covey è la proattività. Sii proattivo, dice. Con proattività non intende essere super motivati, svegliarsi al mattino e fare le cose, ma intende essere responsabili delle proprie azioni, sentirci responsabili e agenti delle nostre azioni. Un tema di cui abbiamo parlato molte volte, che è stato un po' inaugurato da uno psicologo famosissimo, da William James, poi riportato nei modelli di attribuzione delle cause di Julian Rotterney, Locus of Control interno ed esterno. Oggi sappiamo, grazie agli studi della McGonigal, che addirittura sentirci responsabili degli eventi che ci capitano nella vita, ne diminuisce l'impatto come stressor e anzi non solo. Nel momento in cui ti senti agente di ciò che stai facendo, migliora la tua capacità di affrontare stimoli simili nel futuro. In altre parole, ciò che ci dice Stephen Covey è diventiamo responsabili delle nostre azioni, sia che esse siano positive e portano ottimi risultati e siamo tutti bravi a sentirci titolati di quelle azioni, e sia invece quando purtroppo non portano a buoni risultati. Inoltre già nella sua prima formulazione la proattività di Stephen Covey faceva pandan con la consapevolezza, sembrava quasi avesse colto l'onda che stava arrivando della mindfulness, quindi della capacità di essere consapevoli di ciò che ci sta accadendo. Senza consapevolezza non possiamo essere realmente responsabili ed una buona responsabilità conduce a sua volta a maggiore consapevolezza. Secondo comincia dalla fine. Questo comincia dalla fine è molto particolare perché all'interno del libro di Covey si parla sia di avere in testa un obiettivo, e sappiamo bene quanto siano importanti gli obiettivi nella nostra esistenza, ma anche che facciano pandan con i valori, cioè con qualcosa che è davvero importante per noi. Quindi è più una scoperta tra virgolette di questi valori all'interno della nostra vita e della scrittura di quella che lui chiama una missione personale, cioè ti invita a scrivere quali sono i tuoi valori e in base a questi valori che cosa seguire, tipo io sono una persona così e cos'ha che cerca quest'altra cosa, quest'altra cosa e aggiornare questa visione di te. Ecco all'interno di questo capitolo Covey parla di visualizzazione, parla di autoipnosi, parla di PNL, parla di un sacco di cose che oggi sappiamo non avere tutto questo effetto in realtà sulla nostra mente. In altre parole ti basta scrivere i tuoi valori, prendere l'abitudine di scrivere i tuoi obiettivi e rivederli alla luce dei tuoi valori per migliorare te stesso, senza il bisogno di metterti lì e fare lunghe visualizzazioni strampalate sul tuo futuro, anche perché visualizzazioni e affermazioni magari allo specchio, come hanno dimostrato le ricerche degli ultimi anni, non solo non funzionano ma in alcuni ambiti e su alcune persone potrebbero addirittura peggiorare la situazione, perché dirti allo specchio cose di cui non sei realmente convinto o convinta hanno un effetto negativo, è un po' come se io mi guardassi allo specchio e dicessi che belli questi boccoli, che belli questi boccoli e di certo se mi vedessi al bar fare così non ti sembrerei una persona così centrata. Tuttavia a partire dalla fine l'idea di avere in mente il perché facciamo quello che facciamo è fondamentale e ci fa molto molto bene, soprattutto se la vediamo in un'ottica di valori come li vediamo oggi, cioè come dei coefficienti della nostra società che vanno scelti di volta in volta e tra virgolette utilizzati, seguendo quel valore non come se fosse un obiettivo ma come se fosse una direzione, sapendo che essendo una direzione non ci arriveremo mai. Vatti a vedere tutti i video sui valori per capire. Terzo, dare priorità alle cose importanti. Questo è fondamentale, Covey ha spopolato, meglio ha sdoganato la famosa matrice di Eisenhower dove si mettono in relazione le cose importanti con le cose urgenti. È una cosa che conosciamo da diverso tempo ma se per caso non hai letto il libro o mai sentito questa roba vatti ad informare cerca matrice di Eisenhower ma semplicemente sta nel non confondere le cose urgenti con le cose importanti. Facciamo un esempio, pagare una bolletta è una cosa urgente ma non è importante anche se tra virgolette non ci porti tutta la tua attenzione, anche se se la lasci lì dopo un po' di tempo diventa anche importante perché poi non ti arriva più la corrente elettrica e sono guai ma ci siamo capiti. Ecco diciamo che tra portare a termine un lavoro ed andare in posta a pagare la bolletta, facendo un esempio un po' antico quando si pagava in posta, ecco è molto meglio portare a termine un lavoro. Tuttavia quando una cosa è molto urgente o troppo urgente perché l'abbiamo procrastinata troppo a lungo ci fa sembrare che sia importante ma in realtà non è così importante. Noi dovremmo riempire la nostra giornata di cose importanti e non urgenti anche se le cose urgenti vanno fatte altrimenti poi diventano importanti. Oggi dobbiamo stare attenti ovviamente a questo principio che veniva spinto così tanto negli anni 90 ma ovviamente oggi sappiamo che esiste una working balance cioè la nostra capacità di lavorare nel giusto modo, con il giusto ritmo e non con l'idea di stacanovismo del tipo lavora, lavora, lavora perché soltanto questa cosa qua può renderti libero, no? Per usare una citazione non troppo bella, ci siamo capiti. Quarto, pensa win-win e anche questa cosa qui è bellissima ancora ad oggi cioè cerca di collaborare con le altre persone evitando di vedere la cosa come se fosse una battaglia dove io vinco e tu perdi. Vita mia, morte tua, potremmo dire. Ecco questa faccenda qui che in alcuni casi, in alcuni contesti potrebbe essere la palissiana perché è ovvio che se non lo so facciamo un bando di concorso, se vinco io non vinci tu, in realtà nella maggior parte degli accordi che facciamo con le persone intorno a noi pensarla in modo maggiormente equilibrato cioè vedendo la possibilità che entrambi si porti a casa qualche cosa è assolutamente ancora attuale e credo che anzi debba essere ricordata soprattutto in un periodo come il nostro che esalta le prestazioni e mostra soltanto i vincitori tra virgolette. Ecco quindi è ancora una regola molto molto valida e anche spiegata in modo abbastanza attuale. Quinto, cerca di capire prima di essere capito, rientra all'interno di quella enorme branca della comunicazione che potremmo chiamare dell'ascolto attivo, della capacità di mentalizzazione, di metterci nei panni degli altri e soprattutto di fare la differenza tra il fatto di ascoltare per rispondere all'altra persona o ascoltare per capire. Questa differenza fondamentale che spiego sempre nei miei corsi di comunicazione è qualcosa che tendiamo a dimenticare. Perché? Perché ci fa paura l'idea di non comprendere, di non reagire, di non avere quella famosa risposta pronta quando invece è molto più importante ascoltare per capire e non ascoltare per rispondere e soprattutto cercare prima di comprendere il nostro interlocutore, prima di dare per scontato di essere compresi. Un'altra faccenda molto attuale dove tra virgolette ognuno di noi si sente un po' incompreso perché il prossimo non lo ascolta. Ecco se ti senti incompreso inizia tu a comprendere prima gli altri e vedrai che questa cosa ti aiuterà tantissimo. Anche questa regola, anche se spiegata un po' con quel tipo di linguaggio là, è ancora molto attuale. Sesta regola sinergizza, cioè fai sì che l'insieme delle persone che lavorano con te o che sono intorno a te diano di più della somma delle singole parti. Cerca di mettere insieme collaborazioni che siano reali o virtuali. Ad esempio nel libro di Covei non ci sono ovviamente gli aspetti virtuali, tuttavia anche questa regola ovviamente molto semplicemente è ancora vera. Cioè l'unione fa la forza. Oggi siamo convinti che ognuno e ognuna possa fare un po' da sé. Ecco in realtà questa qua è una pia illusione. Come abbiamo visto differenti volte noi siamo il frutto di interazioni tra persone e non solo tra persone. Settimo. Affila la sega o prenditi cura di te. Qua Covei ci racconta la famosa storia del boscaiolo che affilava la sega. Sì è vero affiliamo la sega significa prendiamoci cura di noi attraverso l'alimentazione, l'esercizio fisico, la pratica meditativa, guardando i video, ascoltando il podcast di Psyne. Sono altri modi per prenderti cura davvero bene di te stessa e di te stesso. A parte gli scherzi ci siamo capiti. Prenderci cura di noi senza correre all'impazzata è qualcosa che oggi è molto attuale. Mentre al tempo di Covei non era così attuale e dunque è stato bene ricordarlo. Ora che cosa c'è di questo libro che mi piace davvero tanto. In questo libro per la prima volta in quel periodo storico si parla più di atteggiamento mentale rispetto alle tecniche. Si parla più di un'apertura mentale rispetto al focalizzarsi sulle cose per raggiungerle attraverso chissà che cosa. Certamente figlio del suo tempo quindi all'interno ci troverai l'autoipnosi per convincerti meglio a raggiungere i tuoi risultati. Ci troverai le affermazioni tra virgolette non proprio come quelle da ripetere allo specchio ma qualcosa di molto simile. Ecco leggilo con grano salis ricordandoti che è un libro di qualche decennio fa e soprattutto se riesci a fare pandan con quello che stai studiando in questo momento la cosa più importante da fare non è tanto metterti lì e studiare queste regolette ma provare ad implementarle nella tua vita quindi diventando più responsabile assumendoti la responsabilità ascoltando di più cercando di essere più flessibile avendo bene in mente che cosa vuoi fare diventando maggiormente consapevole dei tuoi valori e come influenzano la tua vita eccetera eccetera. Bene fammi sapere se questa riattualizzazione seppur breve del libro di Covey ti è piaciuta soprattutto se hai già letto il libro se non hai letto il libro fammi sapere se ti ho fatto venire un po il desiderio di leggerlo so che all'interno del libro ci sono anche tante altri piccoli errori psicologici ma che vuoi che ti dica non è un libro accademico con tutte le cosine sopra tuttavia ritengo che quegli errori accademici o quegli errori diciamo così psicologici siano di poco conto rispetto al potente o i potenti messaggi che questo semplice libro continua a veicolare e che se letto con la giusta predisposizione può quasi sicuramente aiutare chiunque a migliorarsi almeno di un pochino bene fammi sapere che cosa ne pensi fammi sapere se hai letto il libro metti mi piace iscriviti a questo canale noi ci vediamo al prossimo video ciao lo sapevi che la meditazione può portare nella tua vita una serie lunghissima di benefici scientificamente dimostrati beh ora lo sai e se vuoi praticarle in modo semplice e costante ho creato un'app gratuita per te puoi trovarla sull'apple store o sul google play store oppure cliccando sul link in descrizione